Una bella giornata in Consiglio regionale, abbiamo festeggiato la festa dell'Europa il 9 maggio 1950 quando abbiamo cambiato le nostre vite, un grazie al Presidente Gazzetti, a tutti i membri della Commissione ai più di 100 sindaci della Regione Toscana che hanno illuminato di blu i loro principali monumenti questo è un modo per dire grazie a chi ha combattuto negli anni per regalarci l'Europa che abbiamo ma anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni, alle ragazze e ai ragazzi più giovani quella che è davvero l'Europa, una terra di opportunità, terra in cui costruire il proprio futuro è una sfida collettiva, una sfida di miglioramento di quei valori e di quelle radici che ci rendono così fieri di far parte di questa grande comunità non era semplice e scontato più di 60 anni fa, non è semplice e scontato oggi ma solo tutti insieme possiamo costruire un'Europa ancora migliore, più unita e più forte